Una denuncia per degrado e abbandono, muri con evidenti segni di umidità, crepe sulle facciate, sporcizia nelle aiuole e erba alta, la minaccia dei topi bloccata con delle improvvisate gittate di cemento e un'intera comunità che chiede sicurezza a pescare i residenti di Borgo Marino Sud e esprimono tutta la loro esasperazione. Cambiata la giunta e chiaramente loro dicono che si sono ritrovati in un pozzo di guai e hanno tolto gli 810 mila euro stanziati per questi tre palazzi ad altri quartieri. Dopodiché ci torsero anche i 176 mila euro per il centro sociale nella piazzetta di Acente via Town de Revel, dietro l'altro palazzo. Nel vecchio ci ripetè il discorso che servivano per altre cose più indicate. Non compare tra le graduatorie per lo stanziamento di fondi, Borgo Marino non è mai citata, eppure il suo stato di degrado è evidente e la sua posizione è adiacente proprio a una zona votata alla rinascita e cioè l'area dell'ex cofa dove spicca il simbolo di Pescara, il ponte del mare. Uscì una comunicazione del comune di Pescara dove elencarono tutte le zone, i quartieri popolari dove andavano spese questi maledetti soldi, non maledetti, maledetti per noi, maledetti per gli altri. E non siamo gelosi o invidiosi però c'è un po' ciascuno. È una situazione dove i palazzi sono pericolanti secondo voi? Molto pericolanti. Qui sotto c'è spazio, c'era spazio per non far salire l'umidità sopra. Adesso è pieno di topi e di acqua e di sabbia giustamente.